salve a tutti i miei amici france tra eccoci qua nuovo episodio di vrc 9 france vi dico seguitelo come gioco perché veramente molto bello e il rally è tutta un'avventura raga quindi ogni episodio ci possono essere ribaltoni cose assurde abbiamo visto l'ultima gara france dove eravamo praticamente attaccati al leader ultima prova speciale dove volevamo dare l'assalto alla vittoria e invece ci siamo ritrovati i sesti dopo una prova incredibilmente deludente fine video ragazzi proviamo la yaris vrc dio c'è che appena vinto il campionato del mondo piloti a monza quindi campione del mondo per la settima volta pazzesco raga purtroppo toyota non si è riuscito a giudicare il mondiale costruttori l'ha vinto la hyundai ben per la hyundai che anche un team principale italiano quindi non sono tifoso in generale nel rally di una squadra specifica amo anche la ford amo tutte le vetture allora france che vi volevo dire quindi si parte ci facciamo la prossima gara e poi ci andiamo a vedere questa bellissima yaris andiamo a vedere che già me lo sono dimenticato un po cosa ci propone il calendario e vabbè se ci riesco ad andare eccolo qui via andiamo al nostro quartier generale raga oggi salve imprevisti friends torna anche te crew 2 sto facendo l'aggiornamento quindi raga vediamo un po cosa offre di nuovo questo gioco la mia bella tuta del civitella la squadra del mio paese questo è di quando giocavo a calcio a 5 raga quindi tanta roba in questo video friends mi dispiace se non seguite vrc perché è sbagliata come cosa se amate gli sport automobilistici raga dovete seguire tutti i tipi di sport io amo giocare a tutto compreso il rally è un po difficoltoso col volante ori apex non è diciamo il massimo della vita quindi sarà uno di quei giochi che dirotterò col t 150 appena arriverà però lori lo utilizzeremo comunque nel my team in formula 1 in gran turismo sport sicuro il t 150 vediamo un po dove dirottarlo allora madonna quanti membri della squadra allora per ora la squadra è completo non abbiamo più bisogno siamo 10 a vedere di migliorare qualcosa franzi o direi di allora quando lo possiamo migliorare poi neanche neanche poi neanche poi miglioriamo questo aspetto qua franzi allora raga io direi di vedere il calendario cosa ci propone allora abbiamo fatto finora tre rally e siamo terzi nel mondiale si riposo gara storica non ce ne importa vogliamo il riposo qua franzi va bene sessione d'allenamento dai a vedere un po che ci propone il nostro team per allenarci i ghiotti ghiotti ci facciamo un bel allenamento vabbè raga l'allenamento consiste nel fare un giro in questo ovale sterrato con delle pozze d'acqua quindi niente di che pazzesco da proporre ti faccio vedere al volo un giretto giusto per prenderci conto franzi non vedo l'ora di salire sulle vrc plus e quindi di finire questa carriera prima stagione vrc2 raga perché veramente le vrc plus l'ho viste a monze sono pazzesche ecco l'allenamento è fare un miglior tempo possibile su questi sterrati ovali tipo daytona indianapolis niente di che franzi dai passiamo torniamo al quartier generale eccoci franzi con grande gioia del vostro supercorris si corre in finlandia l'abbiamo provata già e devo dire che mi sono trovato molto bene su dirt questa era una di quei rally che odiavo invece qua molto bene ma io direi andare a vedere gli obiettivi che abbiamo in questa gara comunque obiettivo di guadagno non scendere sotto 15 mila euro per quattro settimane non usare il volo morbido in due rally raga ma io faccio più o meno guardate pure la reputazione raga quante alte in questo momento raga qua si può fare il colpaccio di un bel podio speriamo bene e andiamo a vedere un po statistiche cosa è la mia reputazione bene bene raga guardate qua noi praticamente siamo vrc3 non lo prendo neanche in considerazione la scuola ci vorrebbe prendere nel team in vrc2 per la prossima stagione dei tre top team siamo ancora allo stesso livello dobbiamo salire raga perché noi vogliamo fare le vrc plus l'anno prossimo raga messa a punto diciamo che è automatica quindi direi che si parte friends andiamoci a godere questo bellissimo rally di finlandia 7 km 4 di prova speciale qua raga veramente bisogna fare il colpaccio perché siamo terzi in classifica ma siamo siamo molto vicini al secondo però abbiamo quelli dietro che spingono quindi partiamo andiamoci a divertire si parte a prezzo concentrazione massima in sinistra 4 taglia poco 50 e sinistra 4 in salta su cima 120 destra 5 corta 50 destra piena su cima e attenzione sinistra 3 per destra 2 all'incrocio apre 120 oh bagnata raga bagnata si sente raga la mancanza di potenza di queste vetture con la c3 plus è stata nettamente più veloce la prova e anche a livello di guidabilità si sente che hanno più differenziali più controlli no madonna raga rischiamo di andare fuori dai al centro su salta e sinistra 5 apre il sinistra 4 chiude 30 oh poccatina e sinistra 5 corta in cima in destra 3 apre e cima in sinistra 6 chiude 50 cima in destra 4 corta 50 siamo lì però oh si in sinistra 4 80 e sinistra 3 su cima e sinistra 5 in destra 4 su salta e salta sta al centro su cima e sinistra 5 su dosso non vedo dove sta andando madonna raga che gara velocissima in sinistra 6 e salta su cima in sinistra piena e salta 50 sinistra 4 in salta in destra piena mamma mia raga si incapretta l'auto in salita e nei salti in salta in sinistra piena in destra 5 chiude in salta su cima in sinistra 4 lunga chiude corta e cima in destra 5 apre raga sto andando molto cauto eh non sto rischiando nulla e sinistra 4 su cima e salta su cima e destra 5 80 destra 3 media all'incrocio apre su cima 50 attenzione salta su cima in sinistra 6 lunga chiude perdiamo la corsa in sinistra 5 chiude su cima ma sono andato piano 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 in destra 6 30 sinistra 6 chiude 4 molto lunga su cima madonna come si incapretta sta caccia di macchina raga sinistra 5 lunga 30 sinistra 5 su cima 30 in destra 5 media e salta e salta e salta e salta il lima a finendo 5 corta per arrivo deve tenere qua schiacciato mamma mia raga e tosta perché è tiratissima siamo riusciti a vincere per un secondo e mezzo su Mad Hostberg che ha appena vinto il Mondiale nella realtà E vai raga, grande prova speciale, grande Continuiamo, andiamo a vedere, siamo primi in questo momento Raga, andiamoci a fare la seconda prova, piove, 7 km Partiamo, Franz 20, sinistra 4, su Gima, apre In sinistra piena, salta In sinistra 4, su Gima, lunga In destra 5, corta su Gima, e sinistra piena Per Gima, in destra 5, lunga, chiude 4, corta, 30 Sinistra 4 E destra 4, stringi molto, lunga, su Gima, 30 Sinistra 5, tieni destra 4, chiude su Gima In sinistra 5, corta, 30 Destra 4, tieni, salta grande su Gima, 100 Attenzione, sinistra 4, freno pesante Chiude 2, non tagliare, 100 No Merda Che coglione Mi parte la macchina, raga Abbiamo perso sicuramente qualcosa In sinistra 5, tieni, in cima, salta, 30 Molto male Dai, dobbiamo recuperare Restra 4, chiude su Gima In sinistra 5, stringi, chiude su Gima, 80 Destra 4, molto lunga, chiude, in salta, su Gima E sinistra 4, apre, 50 Destra piena, su Gima, salta, 50 Porca droga, gli errori, è cazzo Salta forse, 30 E destra 5, chiude corta, e in cima, 30 No Nientra, co Nientra, co Non riesco, non c'ho le sospensioni adeguate Per questo Cioè, si imbarca da sola la macchina Ma cazzo si fa Troppo scorbutica sta macchina, raga Eh, vai Guardate che fa dopo che scendo dai salti Destra 3, su Gima, 30 Si impazzisce proprio Attenzione, destra 4, corta, Dossi, su Gima, 12 Ci proviamo, dai Cerchiamo di perdere il meno possibile Ci proviamo, dai 5 secondi, per il giro della macchina Su Gima, destra 5, tieni In sinistra piena, lunga Chiude 3, non tagliare Oh, no, non ti abbiamo perso, raga Per Gima, in destra 6, tieni sinistra 5, corta E destra 3, apre, lunga E destra 5, corta E salta su Gima, 60 Attenzione, destra 3, chiude 80 Stai a sinistra, su Gima In destra 4, corta E sinistra 6, corta 30 Gima, stai al centro Su, salta In sinistra piena 50 Destra 6, Dossi, su Gima In sinistra 3, media Apre, 30 Oh, raga Cioè, guardate che cazzo fanno le sospensioni di merda Cioè, ma chi cazzo l'ha regolate queste sospensioni Ma porca puttana Come cazzo si fa le delle sospensioni che ogni volta che scendi Da un salto si girano Ma porca troia, porca In destra piena Su Gima, 30 Sinistra 5, su Gima 70 Sinistra 4, corta 100 Cioè, incredibile, raga Ogni volta che scendiamo da un salto si gira In destra piena, chiude 5, stringi 30 Destra 3, chiude Stringi, su Gima 30 E Gima In sinistra 5, stringi 30 Ma porca Eva Destra 4, stringi 30 Destra 4, lunga In sinistra piena, corta 300 Su, Dossi, per arrivo Cazzo, raga Cazzo, raga 14 secondi di stacco Cazzo, raga Poteva andare meglio Ci siamo girati Due volte Perché la vettura Quando si scende dai salti Si gira Porca troia Andiamo a vedere la classifica Raga, siamo secondi A 12 secondi Non è destra Ci mancano due prove speciali La possiamo ancora recuperare Andiamo a vedere un po' Nel parco assistenza Che succede Eccoci qua, friends Vediamo di danni Che c'è Ma eh Dai, alla fin fine Non troppi danni Però, raga Non riesco Non riesco No, no Ecco qua Confermiamo Scusate, raga Mi sono imballato Eh, raga L'ha messa a punto questa Mementiamo un po', anzi Mettiamo al massimo La rigita delle sospensioni Perché mi sono rotto Quasi le balle Raga, possiamo farcela Ributtiamoci in gara E proviamo Quello che ho visto Quindi, raga Proviamo Vediamo che cacchio succede qua Non c'entra neanche la vettura In certe curve Sinistra 5 Intringi Prena Per secca Destra Apre Non tagliare 40 Su Piaia Destra 6 In sinistra piena Prena In destra 3 Su Cima E sinistra 3 Corta E destra 4 Stringi E incrocio Sinistra 3 120 Già Siamo dietro No Eh, raga Niente Merda, raga 12 secondi Di stacco Siamo nella cacca Attenzione Stai a destra Stringi Dopo incrocio In sinistra 2 Non tagliare 80 Eh, va Che cazzo Se ne frega In sinistra 2 Corta In sinistra 1 Media In secca Destra Non tagliare 50 Sican Destra Stringi All'incrocio 100 Stai a sinistra Pericolo Non perdere più Sican Destra 30 Ma che cazzo Sta la chicane Qua Destra 3 E secca Restra l'incrocio In secca Sinistra 30 E arrivo No Dai Cazzo Abbiamo perso Abbiamo perso Una carovana Di tempo Siamo scesi Al terzo posto Ora ci giochiamo Tutto alla fine Costi Dai Destra 5 Stai al centro Su cima Salta Sinistra 5 Su cima Stringi In destra 5 Stringi Su cima Oddio Forse ancora più nervosa Di prima La macchina Forse la dovevamo Ammorbidire In destra 4 Corta In sinistra 5 Su Salta In destra 5 Su cima Stai al centro Chiude 4 Come si gira Cazzo Eh raga Piccoli errori Di inesperienza Sinistra 4 Corta Su Salta Forse In destra 4 Corta Non tagliare E destra 5 Su cima Salta Sto andando piano Perché non voglio rischiare Di fare errori 10 km di prova speciale Raga Se uno fa un danno alla macchina Non ci arriva In destra 5 Stai a destra Su cima In sinistra 5 No No minchia Eh vabbè raga Dai ciao In destra 5 Corta In sinistra 4 Chiude su cima Lunga Stringi In salta 80 Ragazzi stiamo a provare In tutti i modi Ma non è facile Sicolo destra 3 lunga Chiude Salta Su cima Stringi Non è affatto facile France In sinistra 4 Lunga Stai al centro Su cima Eh non si capisce Un cazzo qua In sinistra 4 Stai al centro Su cima In sinistra 3 Corta In destra 4 Su cima Stringi Stringe In sinistra 4 Apri Corta No In destra 4 Corta E sinistra 5 Corta 80 Salta Su cima In destra 5 Chiude 4 Corta E sinistra 4 Corta Suddosso In destra 4 Chiude 3 Stringi E destra 3 Corta Su cima 80 Destra 4 Corta Su cima In sinistra 4 Non tagliare In destra 4 30 Sinistra 3 Corta Stringi E destra 5 Su cima Chiude 4 Lunga Siam perde tanto Ragazzi In sinistra 4 Stringi Chiude Ho sbagliato Io l'assetto Per colpa mia Ho rigidito Forse va a ammorbidire Non lo so In sinistra 4 Chiude 3 Lunga Però dopo Tanti errori Inizio prova Vediamo L'arrivare Alla fine E sinistra 5 Stai a sinistra Su Salta In destra 4 In sinistra 3 Per destra 3 Corta Roccia interna 30 Cristoforo Colombo Benedetto Raga E salta E salta su cima In sinistra 3 Apre lunga E sinistra 5 Su cima Tieni destra 3 Sinistra 4 Molto lunga Chiude 3 Casa esterna In destra 4 In destra 4 Lunga Su cima 30 Insomma ragazzi Le ultime prove speciali Le ultime prove speciali a noi ci sono sempre indigeste E attenzione E attenzione Frenna destra 5 Corta Su cima In sinistra 3 Corta Non tagliare E destra 4 Corta Non tagliare 80 Destra 3 Chiude Stringi Su cima Raga Item di Messico C'è una gara Che siamo stati In lì A combattere Alla fine Amen Possiamo farlo E destra 6 Non tagliare 30 E sinistra 6 Salta Su cima Attenzione Stai al centro 200 Dossi Salta 50 Destra 6 Lunga E destra 5 Molto lunga Apre Salta Stringi In destra 6 In sinistra Piena Attenzione Stai al centro C'è una cippa Raga In salta Grande 40 In sinistra 5 In destra 4 Suttossi Vabbè Ragazzi Ho provato E destra 3 Lunga 50 Penso Che abbiamo Distrutto Parecchio La macchinoccia Madonna Non cammina più Stavate L'abbiamo Sbontata Ho voluto Tenere Giura La Vabbè Fa niente L'era Esperienza Experience Diciamo che Nei tre quarti Di gare Sera Per Aspettato Non è andata Benissimo Però Nei tre quarti Di gare Ragazzi Siamo Competitivi Eh ragazzi C'ho la macchina Distrutta Tira Tutta Da un lato Oddio Pericolo Pericolo Dopo tutto Quello Che ho fatto Pericolo Portiamo All'altra Guardo Sicuramente Abbiamo perso Una valanga Di posizioni Mannaggia La miseria Friends Minchia Cazzo Ragazzi Andate a Fininoni Cacchio Ragazzi 1.37 Poi Appari Guardate La Mezzo Secondo Già eravamo Ottavi Ma poi Nel giro Di 12 Secondi Stavamo Comunque Con Scandola Che vi Devo Dire Ragazzi A vedere La Classifica Mamma mia Quanto Siamo Scesi Nel Mondiale Friends Osberg Scappa Noi siamo Rimasti Al Nono Posto Eh Ragazzi Tosta Abbiamo Fatto Una Bella Discesa In Una Gara Che Se Fossimo Arrivati A Podio Come Speravo Io Si Poteva Arrivare Ben In Avanti Vabbè Andiamoci A provare La Yaris Partiamo Friends Rally Del Portogallo Vediamo Un po' Questa Yaris Come Va Madonna Quanto Cammina Raga Madonna Quanto Cammina Raga Ma Madonna Quanto Cammina Raga E Si Capisce Una Cippa Qua De Cazzo Sto Quanto Tagliare 30 Sinistra 5 Lunga Chiude 3 Corsa String In Nessera 3 Media Chiude 30 Sinistra 3 Media Chiude 5 Per Nessera 3 Corsa Non Tagliare Raga Va Talmente Bene Che Si Gira Senza Usare Il Freno A Mano Talmente La Potenza Delle Ruote Posteriori Non Avete Bisogno Di Freno A Mano Pazzesco Raga Pazzesca La Potenza Di Queste Vetture Pazzesco Una Guidabilità Pazzesca Cioè L'R5 Che abbiamo Guidato Prima Sembra Una Bicicletta In Confronto Bellissima Macchina Raga Andavamo Sotto Raga Per Cazzo Stanno 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 Scoppietta Lo Scarico Raga Stanno 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 Bello Anche Il rally Del Portogallo Raga Molto Bello Non Si Vedo Una Cippa Madonna Come si Imbatta Raga Raga Cammina Da pazzi Non è tempo Di pensare Per quanto Viaggia È Guidabilissima E Questa Prima Speciale Non l'ho Mai Fatta Quindi Non ti Amo Neanche Di Capire Cosa Stai Facendo Dai Facciamo Un salto Pazzesco Eh lo sapevo io Com'è Forza Per salto E infatti Raga Se sapevo dove saremmo ricaduti Non sarei saltato Così Minchia Raga Una potenza Esorbitante Esorbitante Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Raga Passi Una cosa Questo VRC È veramente Un gioco Fantastico Ha delle Pecche Come ho detto Sempre Ma anche Tanti Preggi Le VRC Plus Sono vetture Eccezionali Raga Non vedo l'ora Di salirci Sopra Perché rispetto All'R5 È un altro Mondo Completamente Vi ringrazio Per la visione Di questo video Friends Vi do appuntamento Ai prossimi video Del vostro Super Corris Ciao